Il mio papà per liberarsi dallo sfruttamento fu costretto ad emigrare in Svizzera, a Zurigo, perché voleva comprarsi il pezzo di terra che gestiva a Mezzagria. Ci furono problemi economici nella mia famiglia e in quelle situazioni ti trovi a passare da un giorno all'altro, dall'essere bambino a diventare adulta. Io non ho avuto scelta, l'ho fatto perché era necessario farlo. So che per mio padre è stato doloroso, per me ha segnato una vita, ma non sono, come ho detto in altre occasioni, orgogliosa di non aver studiato, ho cercato di recuperare, ma quella è un'esperienza che ti segna, che ti segna per il resto dell'esistenza. Ed è anche per questa ragione che credo di dover restituire ogni pezzo di fortuna che ho avuto nella mia vita nel poter passare dal momento in cui per tanti ero considerata niente, come tante altre donne e tanti altri uomini, tante altre ragazze del Mezzogiorno, ad avere funzioni istituzionali importanti per i quali è necessario, a maggior ragione, cercare di restituire a quelli che ancora oggi, a distanza di tanti decenni, vengono considerati niente. Grazie. 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 Grazie.